Netta frenata della crescita del commercio mondiale nel 2011. L'anno scorso ha detto a Ginevra l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il VTO, l'aumento degli scambi internazionali è stato del 5%, con una brusca decelerazione dopo la ripresa del 13,8% nel 2010. Per il 2012 la crescita rallenterà ulteriormente al 3,7%, così dice il direttore generale del VTO, il francese Pascal Lamy. Senza sorprese il rallentamento, superiore al previsto, è attribuito al diminuito slancio dell'economia mondiale a causa di una serie di shock, tra cui la crescita del debito sovrano in Europa. Il VTO ha permesso di scoraggiare il nazionalismo economico, ma il lento ritmo della ripresa alimenta i timori che non susseguirsi di misure commerciali restrittive, mini gradualmente i benefici dell'apertura al commercio. È il momento di non fare nulla che possa nuocere. Ha osservato il direttore generale del VTO, Pascal Lamy.